È un miserabile bugiardo, così l'ex primo cittadino di Sesto Fiorentino Gianni Gianassi. Al sindaco di Firenze, Dario Nardella, è una guerra sempre più feroce, quella che sta accompagnando la campagna per i ballottaggi di domenica 19 nel comune della Piana. Il pomo della discordia, il bus della linea 18, soppresso proprio durante l'amministrazione Gianassi e che Nardella vorrebbe ripristinare su sollecitazione del candidato a sindaco del PD a Sesto Fiorentino, Zambini. Gianassi punta il dito contro l'amministrazione fiorentina e dice non lo tolzi io ma Palazzo Vecchio, così risponde il sindaco Nardella ai nostri microfoni. No, non rispondo a queste attacche, a queste polemiche, ai cittadini non interessa questo, è l'interesse che ci mettiamo a lavorare per le cose che servono. Quindi neanche dell'autobus 18 come la questione? 18 lo faremo e quanto a Gianassi la notte dormirò lo stesso.